ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento per il video tutorial in collaborazione con youplacraft non sentite anche voi questo profumo di primavera sarà sarà che io per questo nuovo video tutorial ho creato qualcosa di profumoso e come utilizzando una cosa che credo che molti di noi abbiano in casa che sono le perle profumate per il nostro bucato in alternativa possiamo anche utilizzare della lavanda ma io avevo queste e quindi utilizzato queste come creando dei profuma ambiente così con tanti abbellimenti di youplacraft della carta scrap e delle bustine per i filtri del caffè vi piacciono bene se vi piacciono non vi resta altro che andare a vedere il video tutorial che segue a questo video e buona creazione profumosa ciao ciao a tutti 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 a tutti ciao 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 a tutti 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 a tutti